L'Associazione Culturale Francesco Lobue, RBE e RBETV ed E'Nostra hanno avviato una partnership. Lo abbiamo fatto con convinzione e ci siamo impegnati a informare i nostri ascoltatori e telespettatori della possibilità di affidarsi a un fornitore elettrico cooperativo che vende ai propri soci solo elettricità rinnovabile proveniente da impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici con garanzia d'origine, come E'Nostra. Per mettere a fuoco la transizione energetica. KiloWatt Talk, una produzione RBE TV con Vibes Video Backlit Studio in collaborazione con E'Nostra. Secondo i dati diffusi dalla Commissione Europea, il settore delle costruzioni è responsabile del 40% della domanda di energia primaria dell'Unione Europea e del 36% delle emissioni di gas serra. Un dato forse più grande di quanto ci aspetteremmo, perché quando pensiamo all'inquinamento ci immaginiamo le strade trafficate, non le case. Ma la notizia peggiore è che entrambe queste cifre potrebbero essere abbassate drasticamente, prima ancora di considerare l'uso di fonti rinnovabili o di intervenire sull'infrastruttura energetica. Il problema è l'efficienza. Molto del calore che viene immesso negli ambienti semplicemente fuoriesce dalle abitazioni, costringendoci ad alzare la temperatura per stare al caldo. Secondo Ecco, think tank italiano per il clima, oltre il 65% degli immobili in Italia sono stati costruiti senza criteri di risparmio energetico. Questo appesantisce le bollette, rende molte case sfitte perché poco vivibili e soprattutto ci porta a sprecare energia e ad inquinare l'atmosfera. Il discorso varrà anche quando avremo completato la transizione energetica. Come abbiamo già raccontato, l'uso di eolico o solare ha comunque un impatto ambientale, sebbene ridotto. E più riusciamo a tenerlo basso, più potremo considerare la transizione davvero riuscita. Questa è la sesta e ultima puntata di Kilowatt Talk, la trasmissione di RB e TV su energia e sostenibilità realizzata in collaborazione con E-Nostra. Nel caso delle abitazioni, i problemi di efficienza possono essere molto vicini a noi. In altri casi si tratta invece di luoghi lontani e di sprechi quasi invisibili. Ad esempio il metano, che circola nei gasdotti ed è un potente gas serra. Ha un potenziale di riscaldamento 80 volte superiore alla CO2. È considerato il responsabile di circa il 30% dell'aumento della temperatura globale a partire dalla rivoluzione industriale. Eppure molto metano viene disperso senza nemmeno utilizzarlo. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, ogni anno durante le operazioni di estrazione di gas e petrolio ne vengono dispersi in atmosfera 260 miliardi di metri cubi a causa di infrastrutture danneggiate e di pratiche scorrette. Il problema è ben presente anche in Italia. Tra il 2022 e il 2023, Lega Ambiente, con il supporto di Clean Air Task Force, ha monitorato 16 impianti tra Sicilia, Campania e Basilicata, nodi strategici per la distribuzione di gas. L'associazione ha rilevato 150 punti di dispersione. In alcuni casi si trattava di venting, il rilascio volontario di gas. 128 di queste perdite provenivano invece da bulloni, giunture, valvole e altri componenti. Non è facile rilevare il metano disperso poiché è totalmente invisibile ad occhio nudo, ma si calcola, sempre la IEA, che il 75% di queste perdite potrebbero essere azzerate con l'utilizzo di tecnologie esistenti. Nel 2021, ad esempio, avremmo recuperato 180 miliardi di metri cubi. Lega Ambiente ha chiesto al governo di adottare una normativa stringente che preveda maggiori controlli e imponga interventi di riparazione. Ovviamente anche Lega Ambiente chiede innanzitutto l'abbandono dei combustibili fossili, anche del gas. Ma nel frattempo, meglio non disperderla a vuoto. Il metano, inoltre, rimane in atmosfera per pochi anni, circa 12, mentre la CO2 rimane anche per secoli. Quindi un taglio delle emissioni di metano porterebbe a risultati visibili in tempi sorprendentemente rapidi. Proseguiamo allora il discorso sul tema dell'efficienza energetica. Non lo faccio da solo. Qui con me ad aiutarmi il responsabile dei servizi energetici per Enostra, Tommaso Gamaleri. Benvenuto nella nostra trasmissione. Grazie Alessio, benvenuto a voi. Tanti saluti a tutti gli ascoltatori. Il primo punto che mi viene da affrontare è, se non sia un po' un controsenso per un fornitore di energia, concentrarsi sull'efficienza energetica. Non converrebbe invece far consumare di più e quindi ricevere una bolletta più alta? Probabilmente sì. Se inseguissimo un modello di puro business, sicuramente questo sarebbe l'obiettivo principale che potremmo voler perseguire. In realtà abbiamo l'ambizione di partecipare a un percorso di cambiamento e di miglioramento delle condizioni socioambientali del nostro pianeta. Quindi riteniamo che sia più opportuno andare a ridurre i consumi alla fonte per poter velocizzare la loro transizione da le fonti fossili alle fonti rinnovabili. Inoltre per il nostro modello di coinvolgimento delle persone è molto più funzionale coinvolgere più cittadini, ciascuno che consuma poco, piuttosto che pochi cittadini energivori perché la nostra forza è il numero dei soci, perché più persone possiamo raggiungere, più persone possiamo coinvolgere anche nella produzione di energia rinnovabile e quindi diventa un modello virtuoso che funziona meglio con grandi numeri piuttosto che con piccoli numeri. Esatto, sta già nella struttura insomma, non è un fornitore che gestisce tutta la produzione di energia e la manda agli utenti, ma essendo anche gli utenti stessi coinvolti in realtà questa distinzione salta e quindi comincia ad aver senso. Rispetto allo spreco di energia in Italia, si può sprecare energia in tanti modi, ci sono alcuni numeri a disposizione, alcuni dati per capire insomma dov'è e quant'è che possiamo migliorare? Allora, non darò dei numeri a livello nazionale perché sarebbero cifre con tanti zeri che poi non trovano la concretezza nel nostro vivere quotidiano. Posso dire che noi siamo abituati a vivere a un livello di consumo che ci sembra normale quando in realtà con la tecnologia odierna, ma anche con un buon senso che è molto più antico, mi permette di dire, potremmo vivere con lo stesso stile di vita, con lo stesso stile di comfort, giocendo i consumi in maniera decisamente significativa. Le nostre abitazioni che ci sembrano consumare il giusto oppure un valore energetico normale in realtà consumano dieci volte quello che potrebbero consumare se fossero costruite con i criteri moderni che partono sostanzialmente dall'isolamento termico. Negli ultimi anni si è scoperto il valore di fare i cappotti ai nostri edifici, ma sono ancora pochissimi gli edifici che sono dotati di questa facciata coibentata. Questo singolo intervento unito alla sostituzione delle caldaie convenzionali con sistemi a pompe di calore porta effettivamente dei risparmi di consumo generali dell'ordine dell'80-90%. Questo chiaramente poi restituisce anche un grandissimo risparmio economico nelle nostre bollette, e mi ricollego alla domanda precedente, però soprattutto ci migliorerà il nostro stile di vita e soltanto dopo capiremo effettivamente quanto stavamo sprecando in passato. Chiaro. Mi viene qui da porre un'altra domanda che forse è ancora più ampia del tema dell'efficienza energetica, ma ci arriviamo. Noi stiamo parlando di transizione energetica e quindi di sostituire le fonti di energia da combustibili fossili, petrolio, gas, eccetera, e passare alle energie rinnovabili. Perché allora dobbiamo puntare a ridurre i nostri consumi? Se l'energia è comunque pulita, perché dobbiamo usarne meno di prima? Mi ricollegarei sempre a un invito all'osservità, che non sono io certo a doverlo fare, ho fatto sicuramente persone più blasonate di me, però ricorderei fondamentale in questo momento storico, cioè tornare a capire che una vita fatta di sprechi è una vita insostenibile, a prescindere da che cosa si stia sprecando. Nel caso specifico dell'energia comunque è l'urgenza che ci chiama a combinare sia il risparmio energetico con la riconversione dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili. Perché se è vero che arriveremo sicuramente in futuro ad avere tutto il nostro fabbisogno soddisfatto da fonti rinnovabili, è altrettanto vero che raggiungeremo più velocemente questo obiettivo se invece di consumare 100, domani consumeremo 50, perché sta più veloce quella che chiamiamo adesso transizione. Chiaro, per chiudere vorrei provare a ragionare ancora su un altro tema come tanti argomenti che hanno a che fare con la transizione energetica, appunto con il consumo di energia e quindi più in generale con lo stile di vita, anche quello dell'efficienza energetica è diventato un po' politicizzato, ci sono delle ideologie che sono state inserite all'interno di questo discorso, non so se questa sia anche un po' la tua impressione, e magari possiamo ragionare anche su come eventualmente uscirne. Ti do ragione, ahimè, ogni tema concreto purtroppo viene utilizzato in maniera più propagandistica che tecnica o reale, effettivamente sembra che si voglia distogliere l'attenzione verso quelle che possono essere le reali soluzioni per mantenere lo status quo, probabilmente. Questo è un peccato perché io invece auspicherei che l'agenda politica prendesse veramente sul serio il tema dell'efficienza energetica come una chiave fondamentale per ottenere i risultati che l'Europa, ma anche tutta la società civile italiana e mondiale vogliono raggiungere. E invece assisto a dibattiti che sono più alimentati dalla polemica e dalla ricerca del consenso piuttosto che dal superamento del problema. Anche perché forse la politica è quella che dovrebbe darci un po' di lungimiranza, è chiaro che se si aspetta l'individuo, se si aspetta il singolo proprietario di casa nel portare avanti questo tipo di lavoro, l'orizzonte può risultare magari, non dico limitato, però insomma c'è meno incentivo a pensare alla generazione futura magari, perché si pensa appunto alla situazione attuale, quindi è qui che la politica potrebbe intervenire per invece dare quella spinta anche magari proprio economica per accelerare questo processo. Sicuramente il dovere di ciascuno di noi effettivamente lavorare giorno e notte verso questo cambiamento, perché lo ripeto è un'urgenza che è sotto gli occhi di tutti. Mi aspetterei che questo sentimento fosse ancora più forte nelle persone che ci rappresentano, che guidano le scelte politiche ed economiche del nostro paese. Non vorrei sembrare eccessivamente ottimista, però spero che anche con l'ingresso di nuove generazioni nelle poltrone dove si decide, effettivamente questo processo possa essere più incisivo rispetto a quello che è stato fino ad oggi. Allora, come tutti i temi che abbiamo affrontato qui in questo programma, anche questo è molto complesso, ci potremmo dilungare a lungo, ma per adesso ti ringrazio davvero Tommaso per averci accompagnato in questo percorso, grazie davvero, alla prossima. Grazie Alessio, a tutti. Grazie a te Tommaso, adesso ci guardiamo qualche altro dato, qualche numero e poi ritorniamo con l'ultima parte della puntata di oggi. Quanta energia si spreca quindi nelle nostre case? Nell'ultimo rapporto annuale sull'efficienza energetica, stilato da Enea, si legge che, almeno fino al 2022, la maggior parte degli edifici in Italia è di classe F o G, le categorie peggiori dal punto di vista energetico. Questo fa sì che il settore civile sia responsabile del 43% del consumo finale di energia e del 17,5% delle emissioni dirette di CO2 nel nostro paese. Il motivo principale è che la maggior parte dei nostri edifici sono vecchi, costruiti prima delle direttive sull'efficienza. Quelli nelle classi più performanti, A e B, sono quindi principalmente di nuova costruzione, il 70%, mentre quelli ristrutturati registrano una crescita costante ma lenta. Occorre quindi un grande lavoro di ristrutturazione anche per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione che l'Italia si è presa con l'Unione Europea, ridurre le emissioni del 55% entro il 2023 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. I dati di Enea mostrano anche una disparità sul piano economico. Nelle zone di pregio dei nostri territori, le abitazioni a classe F o G sono il 30%. In quelle periferiche la percentuale sale all'80%. Anche in questo caso, quindi, si vedono date di miglioramento, ma non al ritmo necessario. L'Agenzia Internazionale dell'Energia, nel rapporto del 2023 dedicato alla politica energetica del nostro Paese, consiglia di prendere alcuni provvedimenti. Ad esempio, rendere stabili e duraturi i programmi di incentivi, consigliando poi di indirizzarli soprattutto a erediti più bassi e andando incontro alle difficoltà specifiche di chi fa fatica a programmare un intervento di riqualificazione. E allora, per proseguire il discorso sull'efficienza energetica, diamo uno sguardo europeo, anche perché è proprio un periodo caldo da questo punto di vista. C'è stato di recente un voto importante al Parlamento europeo che si è occupato proprio dell'efficienza energetica degli edifici del blocco, dell'Unione. E quindi, per parlarne un po' meglio, raggiungiamo Davide Sabbadin, responsabile clima e energia per l'European Environmental Bureau, una, diciamo, rete, un insieme di organizzazioni che si occupano di ambiente a livello dell'Europa. Ciao Davide. Ciao Alessio e buongiorno a tutti. Allora, l'argomento di cui vogliamo parlare quest'oggi può suonare un po' tecnico, ma in realtà è qualcosa di molto importante nel discorso che stiamo facendo, che è quello della transizione energetica, lo stiamo leggendo principalmente con questa etichetta, la direttiva Case Green. E quindi volevo chiederti per partire, insomma, di che cosa stiamo parlando, anche perché poi non è esattamente il nome ufficiale di tutto questo discorso. Esatto, il nome ufficiale è la revisione, perché di revisione si tratta, dell'esistente direttiva sull'efficienza energetica degli edifici, che ha introdotto una serie di altre innovazioni in questa sua revisione promossa dalla Commissione von der Leyen e che quindi è stata conosciuta come direttiva Case Green in Italia, direttiva in cui il primo testo, il primo accordo politico in consiglio era stato anche approvato dal precedente governo, poi l'arrivo del governo Meloni ha un po' frenato e quindi è coinciso con un dibattito molto acceso sulla fattibilità o meno di questa direttiva in Italia, ma in realtà in tutta Europa. È stata una direttiva, poi ne parleremo magari, che ha suscitato molto dibattito sui giornali e anche fuori dai giornali. La direttiva ha tanti elementi, è una grande direttiva, è una legge molto ampia che è normale che sia così perché si occupa di come faremo i nostri edifici, di come ristruttureremo i nostri edifici, sia le case che gli uffici che gli altri edifici di lavoro in Europa da qui al 2050. Quindi in particolar modo si occupa di edifici esistenti perché la maggior parte degli edifici che oggi abbiamo in Europa saranno ancora esistenti, si calcola l'80% degli edifici del 2050 sono edifici che sono già di fatto esistenti, il mercato del nuovo è un mercato molto limitato. Quindi molto si occupa di efficienza energetica dell'edificato, di ciò che già esiste. La direttiva introduce un concetto che era già presente nella cosetta Renovation Wave, c'è un piano strategico sulle ristrutturazioni e sul mondo del comparto dell'inizia che l'Unione Europea fece qualche anno fa e che si esprime in standard di performance minima, di efficienza minima per gli edifici, si chiamano MAPS nel loro acronimo inglese e sono quelli che hanno scatenato le più forti paure, i più forti proteste anche da varie parti politiche e che sono stati fortemente anacquati nell'ultima versione approvata anche dal Parlamento. Io di quella vi parlerò, non vi parlerò delle intenzioni ottime dell'iniziale della Commissione Europea, ma di dove siamo arrivati e qual è il compromesso politico che poi dovrebbe passare nei prossimi giorni. Poi contiene delle specifiche previsioni per la progressiva eliminazione dell'uso di compostibili fossili nelle nostre case, ricordiamoci che il principale mercato per il gas, che a sua volta è il principale compostibile fossile usato in Europa, sono le case, il riscaldamento delle case e quindi intaccare il consumo di gas nell'uso domestico è fondamentale e essenziale se vogliamo andare verso l'eliminazione o comunque la diminuzione progressiva dell'uso dei compostibili fossili nella nostra economia. Quindi non esiste decarbonizzazione, non esiste controllo del decremento climatico senza la diminuzione dei combustibili fossili, direi forse se non a partire dalla diminuzione dei combustibili fossili a casa nostra e nei nostri uffici, quindi i fossili. Terza cosa, le emissioni grigie, cioè che tipo di materiali utilizziamo per costruire e per istruttura della casa nostra, perché poi magari è una cosa efficientissima, ma purtroppo è un po' così, cioè il cemento, l'acciaio, il PVC, il vetro che abbiamo utilizzato per casa nostra ha consumato talmente tanta energia che magari è superiore a tutta l'energia, anzi, probabilmente se la casa è molto efficiente, è superiore a quell'energia grigia, a tutta l'energia che la casa consumerà nel suo ciclo di vita, insomma negli prossimi 50 anni. Quindi come cominciare a prendere in considerazione anche questa energia è un tema, ed è un tema che per la prima volta si introduce in questa norma. E per ultimo, due cose molto rapidamente, le nuove costruzioni dovranno essere zero emission building, cioè a zero emissioni, che cosa questa cosa vuol dire, anche lì è un compromesso politico che si è raggiunto, prima si parlava nella corrente, in versione della direttiva si parla di near zero emission building, near zero energy building, che non ha funzionato perché sostanzialmente si è lasciato agli stati membri di decidere che cosa volesse dire questi edifici ha emissioni quasi zero e ogni NZEB era diverso da paese a paese, non ha molto funzionato e vediamo se funzionerà questa nuova definizione. E per ultimo, una cosa che per l'Italia è relativamente meno importante, perché c'è già in parte, in Italia c'è l'obbligo del tetto solare, quello che per tutti sembra la cosa più ovvia cioè quando si fa un impianto non rinnovabile, si dica no, no, non lo vogliamo, vogliamo prima partire dai tetti, è pieno di tetti da rinnovire, bene, quando si vuole partire dai tetti gli stati membri hanno messo tutta una serie di difficoltà e di veti incrociati per cui si è molto limitato, ma anche qui ci sono degli obblighi di installazione solare sul nuovo e sulle grandi strutturazioni, in particolar modo all'inizio non a scopo abitativo, ma poi via via, soprattutto quelli grandi, ma poi via via un po' su tutti gli edifici fino a partire dal 2030 in poi avremo l'obbligo solare un po' su tutti gli edifici, comprese le case. In Italia già c'è, nel senso che c'è l'obbligo dei rinnovabili sul nuovo e quindi in qualche maniera non è che questo andrà a cambiare particolarmente il mercato italiano, ma insomma vi assicuro c'è una battaglia veramente un po' paradossale da osservare qui a Bruxelles. Sì, tra l'altro anticipi già uno degli argomenti di cui voglio parlare con te, avvero il livello di politicizzazione di tutto questo discorso, perché c'è stato anche molto scontro, ce l'hai già anche un po' accennato. In ogni caso niente di tutto questo viene fuori dal nulla, nel senso che perché si sta portando avanti una direttiva di questo genere, perché come in tutti gli altri settori e tutti gli altri ambiti in Unione Europea bisogna stilare un piano per raggiungere la neutralità entro il 2050, neutralità carbonica e quindi sostanzialmente questa direttiva ci dà la calendarizzazione, insomma, entro la quale ridurre le emissioni legate anche agli edifici e appunto lo spazio di interpretazione che un po' già ci raccontavi e perché le direttive funzionano così, vengono date le direttive ai singoli paesi e poi i singoli paesi entro certi paletti devono trovare il modo per raggiungere quegli obiettivi. Chiaramente se volessimo fare un discorso completo dovremmo parlare di tutti quanti i singoli paesi dell'Unione Europea, staremo qui diverse ore e quindi proviamo a fare un rapido sguardo all'Italia, insomma quanto è difficile, quanta strada ha da percorrere l'Italia per raggiungere questi obiettivi? Dipende un po' da dove partiamo, nel senso che io ho fatto una carallata senza entrare nei dettagli di quelli che sono i principali elementi, non gli unici perché si parla anche di soldi, di altre questioni, ma della normativa, l'Italia in alcune cose è messa bene il tema appunto per esempio della solidarizzazione dei tetti, tutto sommato come obbligo salvo che poi in Italia il problema sono le soprintendenze, non solo in Italia ma in Italia partiamo dal problema sulle soprintendenze, mentre in altre questioni l'Italia è un po' messa peggio, nel senso che in particolar modo mi soffermo sulla questione dei combustibili fossili ma arrivo anche al tema dell'efficienza energetica degli edifici, quindi gli standard minimi di performance energetica, di efficienza energetica, i MEPS, perché? In primo luogo perché l'Italia è uno dei paesi nel 2023 ancora che è uno dei pochissimi paesi che aveva ancora forti incentivi per i combustibili fossili domestici, in particolar modo le caldaie da condensazione a gas e a gasolio, nel 2023 la Germania e la Francia che hanno gli altri due grandi paesi che li finanziavano hanno smesso di finanziarle queste caldaie e adesso rimane solo l'Italia. I ben informati ci dicono che non sarà più così, che già anche in Italia c'è l'intenzione di interrompere gli incentivi alle caldaie a gas, vedremo se sarà così per una serie di motivi che vi posso riassumere nel fatto che l'Italia guida il plotone dei riottosi nei confronti dell'abbandono del caldaie a gas, con tutta una serie di motivi tecnici, apparentemente tecnici ma di fatto pretestuosi, che cercano di difendere gli interessi di chi produce, si pompe di calore e nuove soluzioni, ma è molto affezionato ad un mercato molto ricco che è quello del caldaietto a gas che non vuole perdere e che però vi ricordo appunto è il principale motore di questo consumo energetico domestico che conta per circa il 40% dei consumi europei, quindi è un problema, la caldaie a gas è un problema e non è vero che non ci sono alternative, ma costruendoci questa narrativa diciamo si è, in qualche maniera l'Italia si è previsionata come paese leader, porta al fatto che molti produttori tecnologici sono nel nostro paese e ha convinto poi le nostre istituzioni, questi produttori hanno convinto le nostre istituzioni a fare da leader a molti paesi dell'est Europa che in maniera fanno i pierini delle situazioni rispetto anche a questa normativa. Quindi dal punto di vista dell'eliminazione dei fossili, che cosa vuol dire? Precisamente si dice interruzione di ogni e qualsivoglia incentivo pubblico alle caldaie fossili a partire dal 2025 e previsione, non obbligo, ma previsione di progressiva eliminazione dell'uso dei fossili in casa in vista di una totale eliminazione a 2040. Il test è volutamente molto soft, non dice obbligo di spegnere le caldaie a 2040 altrimenti veniamo con la polizia, questo non lo può dire. Era molto più duro prima, prevedeva del divieto di vendita a un certo punto, a partire da un certo anno, almeno sul nuovo, delle caldaie a combustione, ma mettiamola così, la lobby delle caldaie che dice di poter far girare le caldaie con gas decarbonizzati, biometano, biogas, idrogeno blu, verde e bianco e chi più ne metta, che non esistono sul mercato e che realisticamente non esisterebbero per diversi anni e soprattutto saranno molto più cari del metano attuale, però con questa ipotesi, questa scommessa sul futuro hanno deciso che vogliamo una neutralità tecnologica e quindi vogliamo in qualche maniera tenersi le mani libere. Allora cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che per esempio queste due dati, 2025 per i finanziamenti, per gli incentivi, 2040 per l'uso, dipenderanno dalla definizione che si dà di una caldaia fossile, che non esiste, che va fatta, la Commissione dovrà fare questa definizione e sarà sotto fortissima pressione politica per fare in modo che, per capirci, le caldaie attuali che vengono etichettate come caldaie che possono funzionare, che di fatto possono funzionare con un 20% di idrogeno, per capirci, ma non perché sono ecologiche, ma perché tutte le caldaie devono avere una certa tolleranza della qualità della purezza. Però adesso lo scrivi, può funzionare il 20% di idrogeno, allora non viene più battezzato come caldaie fossile. È evidente, e qua chiudo poi il discorso sui fossili, che se dovessimo arrivare un domani ad avere a Milano, a Roma, a Isernia, ovunque in Italia, un X% di idrogeno, magari idrogeno verde, ospicalmente idrogeno verde, né i nostri gasdotti, il business di chi ce lo vende non è di venderci il 2% di idrogeno, il business è continuare a vendere con il 98% di metano che diversamente non venderebbero più. E questo, in qualche maniera, ci dice anche che ci sia dietro, in qualche maniera, almeno secondo i nostri sospetti, a questa posizione italiana così favorevole al gas. Mentre, sulla questione di un passaggio sui maps, siamo arrivati, prima si era previsto che tutte le case in classe G e in classe F dovessero passare in classe D e in classe E. In Italia, siccome la nostra etichetta energetica per edifici è praticamente rigida, e per arrivare in classe A bisogna essere performanti, intanto si è cassata l'ipotesi di avere un'etichetta energetica omogenea per tutta l'Europa, cosa che avrebbe facilitato molto il lavoro, diciamo, di omogeneizzazione dell'efficienza energetica degli edifici, ma si è deciso di non farlo. E poi, siccome l'Italia aveva la maggior parte dei edifici in classe F e in classe G, cioè in classe qualità, il problema era che noi avremmo dovuto fare moltissimi interventi, mentre altri paesi più larghi di Manica hanno pochi edifici in classe F e in classe G, o paesi in cui semplicemente c'era una tradizione di maggiore efficienza nella costruzione, e quindi loro avevano, dal dito al 2030, dovevano fare, insommato, poche ristrutturazioni. Quindi c'era questo squilibrio, si è arrivati ad un accordo politico che dice fondamentalmente che circa il 16% degli edifici non residenziali meno performanti entro il 2030 dovranno essere ristrutturati e portati a livelli più alti di performance e a una seconda data poi si interviene anche sulle case, su edifici sempre su quelli meno performanti. C'è una piccola quota a parte in percentuale. Vi ricordo, poi qui questo chiudo, che in realtà il passaggio di due classi di una casa può avvenire anche incidentalmente, perché se si rompe la caldaia elettrica, la caldaia a gas, installi una pompa di calore e facilmente guadagni due categorie. Quindi non era questa cosa che dice, oddio ci fasciamo la testa, chissà quanti milioni di cantieri che si ha, no, bastava cambiare la caldaia a gas con quella con la pompa di calore e realisticamente salti di una classe o anche due, quindi non c'era nessun dramma in corso. Però si è voluto rappresentarlo in questi termini. Esatto e soprattutto si allaccia molto bene con quello che ci raccontavi prima rispetto agli interessi che corrono nei gasdotti e che poi finiscono nelle nostre caldaie. Parliamo allora appunto del quadro politico di tutto questo, perché sappiamo come funziona l'Unione Europea, importante il voto al Parlamento Europeo, quindi nonostante questo testo un po' anacquato, insomma, comunque accogliamo perlomeno positivamente questo voto, ma non è la fine del percorso di questa direttiva. C'è ancora il Consiglio Europeo e lì è di intervenire, sono proprio i singoli governi dei vari paesi e non gli europarlamentari che sono stati eletti in un altro momento e appunto l'Italia, assieme ad altri paesi, probabilmente cercherà di affondare o comunque di discutere, di strappare nuovi compromessi, immagino sia un po' questa la situazione. Allora, lo spazio per il compromesso non c'è, nel senso che, come funziona? Funziona che quando tu, diciamo, la norma viene scritta, come sapete, il potere legislativo sta in capo alla Commissione Europea, a livello europeo, quindi la revisione è scritta della Commissione Europea. Poi il Parlamento l'ha discussa e l'ha emendata, il Consiglio l'ha discussa e l'ha emendata e poi questi tre documenti, quello originale e le due versioni emendate dal Parlamento e dal Consiglio, vengono in qualche maniera messi tutti assieme e in una stanza si trovano le tre istituzioni europee e arrivano ad un accordo che vada bene più o meno a tutti. Quello si chiama trilogo, quindi un dialogo a tre, e da quel trilogo c'è storicamente e istituzionalmente un accordo non scritto per cui una volta che trovi l'accordo col trilogo non si torna indietro, si approva così come, ok? Perché altrimenti si riapre tutto il discorso e si ricomincia da zero e quindi è proprio istituzionalmente uno grosso sgarbo che non succede quasi mai, ok? Tuttavia ci sono un paio di precedenti e potrebbe essere che proprio per il clima politico di campagna elettorale in cui ci troviamo e proprio perché si è individuato in questo tema un tema di campagna elettorale, alcuni paesi membri, o meglio i partiti di governo di alcuni paesi membri che poi vogliono vendersi questa cosa in campagna elettorale vogliono mettere rischio o paventano un voto negativo. Si sa per esempio quella Repubblica Ceca voterà contro, si sa, sono tutti rumors consolidati, Repubblica Ceca voterà contro, non sappiamo cosa farà la Francia, ci sono forti pressioni sulla Germania, forti pressioni anche sull'Italia, io capisco che una parte del mondo conflitto industriale è contenta dell'accordo così come è stato definito nella nuova modalità, alcuni esponenti della maggioranza attuale del governo italiano al volto in Parlamento Europeo hanno detto che sono contenti di come sono arrivati a quel tipo di mediazione a cui sono arrivati, quindi andrà capito come l'Italia voterà. C'è da dire, e questo lo lascio alla riflessione per chi ci sta ascoltando, che è stato molto curioso vedere che quando il nuovo governo si è accorto che aveva votato, appena da poco insediato, qualche giorno insediato, aveva votato la revisione, l'avendamento, la revisione da parte del Consiglio Europeo del test originale, e è partita la campagna di stampa coordinata, mi pare forse il primo febbraio del 2023, su tutti i giornali a reti unificate contro questa normativa, e a questa campagna di stampa ha partecipato anche il comparto di confine di usta che si è necessario per arrivare alla neutralità climatica, altrimenti avremo sempre delle case che bruciano il gasolio e il gas, quindi non ci arriveremo, e che quindi è il principale traino motore per il mercato dell'edilizia. Vedere che l'industria che doveva guadagnare da questo mercato si metteva contro, senza apparenti motivi o giustificazioni, ha stupito in molti, anche qui a Bruxelles, quindi devo dire ha fatto storcere il naso, quindi cosa dirà questa volta la coffe industria di questo tema? Probabilmente avrà un suo peso sul governo, non c'è solo coffe industria, ci sono anche la sua termica, la sua clima, tutti quelli che si occupano delle componentistiche della casa, quindi dell'impiantistica, che mi sembravano essere contenti, ma non ho idea quali saranno le discussioni a porte chiuse con il governo, quindi quale sarà la posizione finale dell'Italia. Sicuramente sarebbe un grosso colpo all'European Green Deal, un grosso colpo alla possibilità europea di raggiungere gli obiettivi del clima e soprattutto un grosso colpo alla speranza di poter finalmente diminuire radicalmente e drasticamente la nostra dipendenza dall'importazione di gas da paesi più o meno autocratici e poco trasparenti, come è il caso in questo momento dell'Italia. Benissimo, quindi insomma direi che una certezza c'è in tutto questo, ovvero la continua capacità dell'Italia di stupire e di sorprendere il resto dell'Europa, non siamo i soli, però insomma sembra essere un po' un ritornello. Quindi purtroppo il nostro discorso non si chiude del tutto perché appunto siamo un po' appesi a questa decisione futura, lo scopriremo prossimamente che cosa verrà effettivamente deciso e soprattutto ci metteremo anni a capire effettivamente come se avremo seguito la direttiva, se appunto la voteremo. Ma insomma direi che per questa volta, per questa chiacchierata ci siamo detti abbastanza. Grazie mille davvero Davide Sabadin, grazie alla prossima. Grazie a te Alessio e grazie a tutti voi. E così siamo arrivati alla fine dell'ultima puntata di Kilowatt Talk. Abbiamo cercato di mettere insieme tutte le informazioni più importanti, più centrali per quanto riguarda alcuni dei piloni, dei pilastri della transizione energetica, gli elementi insomma un po' centrali. Speriamo di aver fatto un buon lavoro, di averli messi insieme nel modo migliore. Parlo al plurale perché chiaramente c'è stata la collaborazione di vari tecnici di Vibes e soprattutto poi la collaborazione di Enostra nel mettere insieme questo programma. È stato per noi senz'altro molto interessante, abbiamo scoperto molto. Grazie per chi ci ha seguito in queste sei puntate e alla prossima. Ciao. Grazie a tutti.